in questo numero del salus tg i sindacati del servizio sanitario nazionale no alla soppressione dell'ona osio sarà mobilitazione l'autotrapianto di cellule staminali può bloccare la sclerosi multipla per anni arcipelago sperduto nel pacifico vuole bandire il junk food no alla suppressione dell'ona osi l'opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani ipotizzata nella bozza di riforma degli enti previdenziali privati le organizzazioni sindacali rappresentative della quasi totalità dei medici veterinari e farmacisti dipendenti del servizio sanitario nazionale invitano la commissione bicamerale a stracciare dal provvedimento vetero statalista distruttivo e che rappresenta un vero e proprio esproprio il trasferimento delle funzioni dell'ona osi in una gestione speciale inps e in caso contrario preannunciano una mobilitazione per scongiurare un provvedimento ingiusto senza precedenti e dannoso non solo per le categorie interessate ma per i valori comuni di solidarietà e di iniziativa sociale dei lavoratori e dei soggetti produttivi del paese cellule bambine contro la sclerosi multipla l'autotrapianto di cellule staminali del sangue è in grado di fermare a lungo la progressione della malattia è il risultato di uno studio italo inglese che ha mostrato come nel 46 per cento dei pazienti si è assistito a un arresto della progressione della disabilità a 5 anni dal trapianto in una minore percentuale di pazienti addirittura un miglioramento dei sintomi la rivolta anti junk food potrebbe partire da molto lontano da torba un piccolo arcipelago sperduto nel pacifico che si appresta a diventare il primo paradiso al mondo del bio chilometro zero è l'obiettivo del torba tourism council che sta pianificando di mettere fuori legge tutti i prodotti alimentari importati nelle strutture ricettive e governative delle 13 isole della provincia il divieto dovrebbe entrare in vigore a marzo